Bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi continuiamo la carriera allenatore con il nostro Venezia Oggi video niente live signori miei, allora noi siamo al 29 luglio 29 luglio noi abbiamo la partita delle partite che è il 11 agosto, ovvero la supercoppa europea contro il Barcellona Quindi noi oggi andremo avanti fino al 10 di agosto più o meno, dopodiché ci spareremo la partita col Barcellona in supercoppa europea Allora, signori miei, allora, noi abbiamo tanti bei soldi, più o meno, più o meno, abbiamo 30 milioni da poter spendere 30 milioni da poter spendere, cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare, abbiamo una rosa che va un attimino rivista Allora, noi abbiamo Gautier, Leighton che se non sbaglio lo stiamo vendendo, Negrao che sarà il nostro secondo portiere Zimigas, Felicioli e Giorgino Bello che se non sbaglio lo abbiamo messo, ah no Giorgio Bello non era, ah Giorgio Bello mettiamolo in vendita In difesa abbiamo Piera, Collins, Fan e Zang che sono in prestito, che sono due scarsoni terribili No, Zang è scarsone, Fan è accettabile, Fan è buono Poi abbiamo Rasse con 65, Cooper con 56 e Cumbullo con 67 Sulla destra abbiamo Birindelli e Laird A Cenobbe abbiamo Viviani e poi abbiamo Wright, Watanabe sono in prestito Castroviglio stiamo vendendo Sono arrivati Kien, Lollo, Abeledo e Falco Abeledo se non sbaglio dovremmo, infatti li abbiamo levato Wood Sulla destra abbiamo il solo Benitez Sulla destra abbiamo il solo Benitez Sulla sinistra invece abbiamo Castagna, Castagna Sigurdsson che dovrebbe essere stato messo sul mercato E Bartolo e Aless Scusate un attimo, mi sono bloccato con la voce E poi cosa abbiamo? Poi abbiamo Matarese che è in prestito Kuzu che è rotto fino per altri due mesi Dolle, Zal dell'Orco e Mantukic Ok, allora Io per quanto riguarda la fascia destra avevo visto questo di qua Allora, cerca giocatore No, cerca giocatore, che cazzo la faccio? Ab mercato, ab mercato Ab mercato Sulla fascia destra Allora, noi intanto dobbiamo andare a prendere Brignoli Vediamo se arrivano i soldi di Layton Doviché dobbiamo andare a prendere Brignoli Poi abbiamo sulla destra Io ho visto questo Allora, Atebor è tanta roba ma costa un botto 17 milioni Sono tantissimi E non è fattibile C'è questo Richelme Che secondo me non è proprio malaccio C'è una classe recessione di 3-2 Vediamo Vediamo Quanto Quanto dobbiamo aspettare un attimino Per Per avere informazioni su di lui Questo Shackton Non sembra nemmeno tanto male Però a centrocampo siamo messi bene Inutile Kuluseski 1.800.000 Kuluseski 1.800.000 Non è neanche tanto male Potremmo anche valutare lui Sinceramente A centrocampo dobbiamo un attimino valutare Effettivamente chi abbiamo e chi non abbiamo Kuluseski Potremmo fare un cambio con Kuluseski Viviani praticamente Avanziamo Vediamo se intanto arriva qualche altra notizia interessante Il secondo giovani talenti disponibili Allora Vediamo un attimino chi ci ha portato Dall'Australia Charles Alexander Che fa schifo Te ne puoi andare E Jamie Moore Anche lui fa schifo Te ne puoi andare E poi Offerta per il trasferimento Per Pippo Falco Uuuu 2.8.50 Il nostro Pippo Falco Vediamo un attimino questa offerta Lui vale 2.3 C'ha 29 anni Pippetto Falco Allora potremmo vendere Pippo Falco E provare a prendere Mussolini se non mi ricordo male Infatti valeva un botto Minamino Valeva un botto Aspettate Zaccagni In 74 In 74 In 7 milioni Potremmo prendere Lo Zaccagni Che è un GOC Oppure Come ci diciamo Oppure il buon Kuluseski Comunque un 769 Questo Shackton Gemi Il nostro Gemi Che vale 3.8 Ma la batta vale un botto Ma la batta è fuori Fuori budget Lo Bokta anche Vabbè dai Andiamo a vendere Pippetto Falco Dai Offerta del trasferimento Per Pippo Falco Vediamo Se riusciamo a tirargli Pippetto Falco Andiamo a trattare Andiamo a trattare Pippo Falco È un buon giocatore Ma non ci ha convinto Tantissimo Pippo Falco Lui vale 2.3 Loro ce ne offrono 2.8 Noi andiamo a chiedere 3.5 3.5 e 50 Dai Ci state? 2.8 e 50 Allora l'ultima offerta Non hanno capito niente Non hanno capito niente Se voler Se voler Il giocatore Dover pagare 2.5 2.3 e 250 2.9 Con la clausola dei renditi Dal 5% No No Non avete capito niente Rimuove la clausola Rinnegozi offerta Allora me ne dai 3 1 E 50 La chiudiamo? Ok Ok ragazzoli Per 3 milioni Pippo Falco ci può stare 29 anni E vecchiotto Allora andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Vediamo se arrivano Resa conto finale Resa conto Mentre la squadra Oh Rallenta Rallenta Interesse per Fernandez Nagio Fernandez Leighton venduto Ok Mandato 5 milioni Castorelli venduto Mandato 3 milioni E 4 Offerta per il trasferimento Per Aaron Sigurdsson Ok Andiamola a trattare Andiamo a vendere Anche Aaron Lui vale 1 milione Me ne offre 4 e 50 Andiamola a trattare Vediamo 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 cosa riusciamo a tirarci Con Con il buon vecchio Aaron Vediamo cosa riusciamo a tirare Con il buon vecchio Oh Addirittura Siamo in un attico Sicuro che siamo a Venezia Allora Il nostro Aaron Che ci ha salvato In tante partite Lo ringraziamo E lo Mandiamo Da un'altra parte 2 milioncini Dai Avanzo offerta 2 milioncini per Aaron Dai Accettano Accettano Di lusso raga I nostri giocatori Vanno a ruba I nostri giocatori Vanno a ruba Signori miei Se vendiamo Aaron E Pippo Falco Resecondo Menzite Squadra Primavera Resecondo finale Su Gabriel Yanku Yanku E un 69 Eh però Sarebbe carino Sarebbe carino Però Non è attualmente Il giocatore Che ci serve Vediamo un attimino A quanto siamo arrivati Intanto facciamo gli allenamenti Intanto facciamo gli allenamenti Che ci stanno Un botto Salgono Cooper Diventa un 57 E Negrao Diventa un 60 Buono Buonossi Buonossi Allora Vediamo se arriva Qualche altro bel soldino Arriviamo fino al 5 Arriviamo fino al 5 Falco venduto Perfetto Offerta per il trasferimento Per andare dell'orco No Dell'orco Non si muove Andiamo a rifiutare l'offerta Per il nostro Che non si muove Lui vale 6 milioni Mi offrono 7 e 7 Addirittura Le secondo finale Su Plizzari Ingiornamento Delle riservatorie Ingiornamento Delle riservatorie Ingiornamento Vediamo un attimo Plizzari Plizzari Chi cazzarola è questo Dalulù Ma chi sei Barro con 76 Zaza un 80 Di 14 milioni Vesino Brignoli Un 75 Dai Brignoli è buono Anche se ha 29 anni 75 5 milioni e 5 Invece Plizzari Un 73 Allora preferisco Per andarmi a prendere Plizzari Signori miei Nostro Alessio Nostro Alessandro Meglio Plizzari Scusate E' un 73 Di 21 anni Brignoli No Brignoli Un 75 Di 29 anni Effettivamente a noi serve Un secondo portiere Raga Andiamo a prendere Brignoli Dai No vabbè Brignoli ce l'abbiamo Contratti scadenza No Allora andiamo a prendere Plizzari Andiamo a prendere Plizzari Signori miei Andiamo a prendere Plizzari Plizzari lo andiamo a prendere dopo Che stiamo a fare noi Allora Aggiornamento dell'osservatore Ho visto questo aggiornamento Ah no Egiziano 68 92 Hell Hindi No 65 89 No 61 89 No 57 79 No Dall'Egitto Con furore Aggiornamento dell'altro Osservatore Vediamo cosa ci ha portato questo Dall'Irlanda Mekname Mekname No L'altro è Cassidi Manco questo è buono Va bene Allora Arriviamo al 5 Abbiamo detto Arriviamo al 5 Vediamo se arriva qualche altro bel soldino Niente da fare Arriviamo al 6 Allora Arriviamo al 6 Arriviamo al 6 Sicur sono venduto Ok E sono arrivati un milioncino e 5 Allora i soldi ci sono Raga I soldi ci sono Io direi I soldi ci sono Abbiamo 42 milioni Allora Prima di tutto Andiamo a prendere Ape Mercato Andiamo a prendere il secondo portiere che ci serve Andiamo a prendere il secondo portiere che ci serve Abbiamo detto Andiamo a prendere Plizzari Plizzari 23 anni 73 Vediamo Contatta per acquistare Vediamo Vediamo Se riusciamo a strapparlo a un prezzo decente Ne possiamo parlare Allora Offerta per il cartellino Lui vale 5,5 Te ne offro 6 Se non vai sbroccano subito Siamo soddisfatti dell'offerta per Plizzari Subito così Secco Mamma mia Allora Dopodichè Andiamo a trattare anche per Allora Mamma quanti giocatori ci sono E' arrivato il secondo per Richelme Richelme Vale 5,5 Una clausola Di 3,2 Contatta per acquistare Paga la clausola Vale 5,5 Ok Richelme lo possiamo andare a trattare pure E poi abbiamo notizie su quel Tom 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 Cole Tom Cole 4 piedi mosse abilità 2 piedi mosse debole Piede debole Ancora non sappiamo niente Aspettiamo Aspettiamo Perché potremmo anche tentare il colpo Balotelli Signori miei Tra 24 e 34 milioni No, no, no Non ce li abbiamo i soldi Per Per lo zio Per lo zio Balot Per lo zio Balot I soldi non ce li abbiamo Allora Andiamo a portare a casa Richelme Andiamola a trattare Via Veloce Non so quanto prenda di preciso Però Andiamola a trattare Andiamo a sistemare un attimino La La rosa Signori miei Perché Il solo Benny Benitez Sulla destra Non ce la fa Allora Siamo felici di vederli Vuole essere importante Ok Accetta L'importante ci può stare L'importante ci può stare Lui prende 23 mila Per 5 anni Vi sta bene? Gli stanno bene i 5 anni Bella così Ignoriamo la clausola di recessoria Me lo dici tu lo stipendio? No Ok Allora io ti offro 30 mila Con un bonus di 25 Dai Ci stai Ne aprile 23 Te ne do 30 Mi sembra un offerto Eguel Gli abbiamo offerto troppo E va bene Va bene Va bene Non fa nulla Non fa nulla Richelme Abbiamo il nostro esterno Adesso Di ricambio E andiamo a prendere Anche plizzari Signori miei Andiamo a prendere Anche plizzari Che forse Abbiamo pagato un poco Troppo Però 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 Secondo me È molto importante Perché plizzari Potrebbe diventare Molto interessante Oh Mentre ci pigliamo Un po' di tè Un po' di tè Mamma che brutto Turnover Ottimo Ottimo così Blizzari giocherà La Coppa Italia Bravo Blizzari Bravo Blizzari Umile Umile C'è 21 anni Quindi 5 anni Di contratto I termini Gli stanno bene Ignoriamo la cosa La recessoria Allora Lui prende 13 e 5 Ti diamo 18 e 5 18 e 5 Con un bonus Di ingaggio Di 20 mila Dai Vi sta bene Sei comunque Turnover Mi sembra L'offerta equa Ok ragazzuoli Due acquisti Per il circo Venezia Signori miei Due acquisti Per il circo Venezia Due acquisti Per il circo Venezia Che andiamo a vedere Allora Abbiamo preso Il buon vecchio Prizari Che dè Un 73 Gautier Un 76 E Negrà Un 60 Quindi buono Il nostro secondo partire Un ottimo Secondo partire E sulla fascia Abbiamo Benny Benitez Che è un 70 E poi abbiamo preso Richelme Che è un 72 Tanta roba Signori miei Abbiamo due ottimi Esterni destri Due ottimi Esterni destri Due ottimi Esterni destri Poi noi abbiamo Allora Lizzari Sicuramente va Al posto Di Negrao Al posto Di Giorgio Bello Che tanto Andrà via Dovrebbe esserci Felicioli Perfetto Russ Lo spostiamo Per Cumbulla Bartolo Va bene Abeledo E Chien Li teniamo lì E Dole E Zalli In panchina Va bene Negrao Lo mettiamo Qui Laird Lo mettiamo Qui Russ E Cooper Viviani Giorgio Bello Riegelme E Gas E Russ Va bene Signori miei Allora Noi dovremmo Riuscire a levarci Qualche centrocampista Perché centrocampo Noi abbiamo Wood E Lollo Poi abbiamo Abeledo E Chien E poi abbiamo Viviani Secondo me c'è un centrocampista Di troppo E anche Cooper Secondo me Allora Viviani Allora Viviani Vediamo se riusciamo a mandarlo in prestito Perché io punto molto su Abeledo E su Wood Signori miei Sembra strano come cosa Ma punto su Di loro Secondo me posso diventare due belle bestie Wood E il buon E il buon caro Avvilito Il buon Caro Come si chiama? Abeledo Di nome? Non mi ricordo come si chiama E se vendiamo bello L'unico dubbio è Se credere in Dolezal Aspettiamo Il reso conto Su 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 quel team Su quel Tom Andiamo a ridosso della partita Con il Barcellona Andiamo a ridosso della partita Con il Barcellona Dai Tanto gli acquisti ce li abbiamo La squadra è ben formata Aspettate 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 però Aspettate Intanto facciamo gli allenamenti Andiamo a fare gli allenamenti Andiamo a fare gli allenamenti Dolezal Bartos Abeledo Cooper No Leva Cooper No vabbè si Leva Cooper Leva Cooper E rimetti Centrocampisti E rimetti Wood Cosa può crescere? Richelme può crescere A 21 anni Tanta roba Tutti gli esterni possono crescere Dobbiamo allenarli Ricordiamoci di allenarli Miglioriamo Intercettazione elettro-difensiva Controllo piedi E scivolata Ravola su questa Wood mio Che sei molto fracco Wood mio Su quei punti di vista Sei molto fracco Allora Io l'unica cosa Voglio andare a mettere Allora L'unica cosa Voglio andare a fare Allora Giorgio Bello è stato messo in vendita E voglio andare a mettere Anche In prestito Cooper Cedibile il best Ah lui già è in prestito Beh E ci è rimasto sul gruppone Secondo finale Su Dagras Luis Chi è Dagras Luis Era un CDC 78 13 milioni Tanta roba Ragazzoni miei Ma non ce li abbiamo Sti soldi Tanta roba Ma sti soldi Non ce li abbiamo Offerta della Nazionale Giorgio di interessa E Ante Rebic L'attaccante Ora vediamo un attimino L'attaccante Dobbiamo valutare Un attimino Arriviamo a ridosso Della partita Con il Barcellona Signori miei Viviani vuole giocare Viviani vuole giocare Ma penso che non giocherà mai Nella vita Il risultato finale Su Akon Evienne Il risultato finale Su Takumi Minamino Chi è Evienne? Evienne me l'aveva consigliato Un 75 10 milioni Attaccante destro E non è niente male Sull'attaccante Ci dobbiamo lavorare Signori miei Sull'attaccante Dobbiamo un attimino Lavorarci Qui c'era Viviani Che voleva giocare Ma Diciamo che ci penseremo Ma non so sicuro Che lui giocherà Detto questo ragazzi Vi ringrazio per aver partecipato Il video Per i commenti Per i like Noi ci vediamo Alle 6 sul canale Per un prossimo video E detto questo Niente ragazzoli Bella a tutti Ciao